La Puglia è prima tra le regioni del centro-sud sul programma europeo Garanzia Giovani, la nuova porta d'accesso per favorire l'occupazione giovanile nelle regioni. Lo certificano i primi dati ministeriali che la vedono terza dopo Lombardia, Veneto e Liguria. Il cerca lavoro pubblico ha registrato ben 15.867 domande dei potenziali beneficiari, giovani tra i 15 e i 29 anni, disoccupati o inattivi. Dopo soli tre mesi, oltre la metà, 8.634 ragazzi, ha già tenuto il primo colloquio, sei le azioni previste nel piano pugliese, tra tirocini e extracurriculum, orientamento specialistico, stage formativi anche in altre regioni. L'intuizione sta nel connubio tra enti della formazione professionale e agenzie interinali, che provano ad inserire il disoccupato nel mondo del lavoro dopo aver ricevuto il curriculum dai centri per l'impiego. Le stesse associazioni però ricevono il saldo dell'incentivo regionale fino a 6.000 euro, solo nel caso in cui riescono a centrare l'assunzione definitiva. Diamo uno spiraglio di luce ai ragazzi, ha spiegato il governatore Vendola, affiancato dagli assessori al lavoro e al diritto allo studio, mettendo sul piatto 37 milioni di euro. Per chi è interessato, i termini delle domande sul sito internet Sistema Puglia sono stati prorogati all'11 novembre.